sovrapposizione con schema palla laterale cross al mezzo tiro e se è segnato di nuovo lancio stavolta a sinistra gioco a due sovrapposizione por terzino tirata cross in mezzo punta che arriva e pumichi freddo che succeva questi sono i vestiti come vedete la bella rivisondoli il pubblico i nostri beniamini